Ciao ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a giocare insieme a Jedi Fallen Order, che è un gioco... sembra bello, nel senso che non l'ho mai... non ci ho mai giocato, l'ho appena scaricato. E andiamo a vederlo insieme. Adesso scegliamo un attimino la... difficoltà... facciamo maestro Jedi, via. Va o non va? Ah, d'accordo, d'accordo. Allora... 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 la grafica sembra già carina scusa calmi mi dispiace disculparti ma il capo vuole vederti chissà che cosa vuole è un guasto sulla linea di acirale che nasce dell'auler sono bloccate servono due persone per fissare i cavi non è una manovra semplice non ti abbacca per questo incarico andiamo c'è anche un extra accettiamo va bene fantastica andiamo al lavoro e qua sono dietro di te comandi ci dirà allora salta scusa calmi non preoccupate guarda lì una nave separatista non vedevo una lucra e ulca dal secolo secoli rotta marla ci farebbe fare molti soldi eh andiamo 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 a andiamo a la scala è andata visto dovrai trovare un'altra strada nessun problema improvviserò mi viaggia la via di qui immediatamente spazzatura non autorizzata spazzatura ma non autorizzata adesso devo dire che è abbastanza intuitivo beh sicuro sia abbastanza semplice la cosa però la giocabilità è buona mi piace calma sono di passaggio prendiamo ci fallisco pacca a credito ah ok salta i premi e le titole rompecate ok vediamo vediamo cos'è allora muoviti abbiamo quasi finito e prima del previsto vediamo 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 non Beratra non no ? ok ok un errore di qua ecco ok che audace bello vederti anche per me non farti ammazzare questa è l'idea adesso guarda Luca ratti di discarica che schifo sono solo di passaggio non serve a te veniate a salutarmi non serve a te veniate a salutarmi anche per me non serve a te veniate a salutarmi ehi cal, ci vediamo alle ganasce, va bene, arrivo! forse scendi immagino di qua quindi ah, questo è alto è proprio più un Jedi, allora, andiamo giù scendi come sei arrivato qui? come sei arrivato tu qui? appunto eh non ci rampachiamo, di qua no, non era di qua qua era di qua ah, guarda lì devo scendere scendere giù oi dobbiamo ok 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 Natagliatrice al plasma è questo Eccolo lì Ok, dobbiamo muovereci Controlla ancora Ok 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 Non capisco quell'indicatore in basso lì di salute Cosa si riferisce ma Forza, finiamo prima che inizino a tagliare quest'altro Usa quella leva di comando manuale Leva di comando manuale Questa Ok Fatto Tocca a te Aspetta Bene Aggancio riuscito Mi sta bene? Ci sono Maraviglia Mi avevi fatto spaventare Adesso Io Giorno Ti avrei Aspetta Ci penso io Fato Sali qua su Che ne ha derri un occhiata? E' un caccia Jay? Ah che colpo E' il sogno di ogni rozzalatore Che ne dici? Da 4 anni? Cinque Il pilota se lo sarà goduto fino alla fine Quei Jedi Una vera tragedia Io non ho mai creduto che fossero tutti tra i tuoi Sì, forse E' un altro giorno fortunato Spero ne ricavere dei materiali niente male Noi rottamiamo queste navi dell'ultima guerra Così loro ne costruiscono altre nuove Bella fregatura Siamo qui a rischiare la pelle per i capi Almeno ci pagassero quanto ai tempi della Repubblica Dovresti fare attenzione a ciò che... Fa sentire Come un simile bambino Potresti guadagnarti una via d'uscita da qui Perché dovrei andarmene da qui? Andiamo, caldo Sei ancora giovane Non vorrai fare la mia fine A un certo punto Dovrai voltare pagina e liberare la tua vita Trovare il tuo destino Certo, come vuoi Ora andiamo E' inutile parlare con te Cosa è stato? E' inutile parlare con te E' inutile parlare con te Trov, tutto bene Non riesco a salire Trov, resisti Posso volare? No, sto a mollare Non posso resistere Trov No Tutto bene, frau Sì, sono bloccato Il lotto è andato Si porterà fuori di qui Tieni duro Attenzione, caldo A presto Questa cosa vola stesso Reaggiti Raul, sei bene? Sì, sì Ci sono Ora dobbiamo Dobbiamo muovere, ci andiamo Che cosa è stata? Che cosa cavolo è successo? Sei stato tu Ma cioè Quella era la forza, vero? Dimentica di quello che hai visto Ti prego, Peter E come faccio? Io li ho visti Ho sentito le loro storie, capisci? Raul Quelli come te sono ricercati Lo so E va bene, d'accordo Ma dobbiamo stare attenti Si sente? grazie 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 a tutti. 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 Siamo tutti sacrificati. Sì, proprio così. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bene, dai. Per oggi direi che l'abbiamo provato. Ragazzi, grazie per essere arrivati fino a qui e ci vediamo nel prossimo video. Magari andiamo proprio avanti con questo perché mi sta prendendo sto gioco. Alla prossimo.